Ho un segreto da confessarvi, avvicinatevi. Avvicinatevi! Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore sono queste le cose che ci tengono in vita. Citando Walt Whitman O me, o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli, città gremite e distolti. Che vedi nuovo in tutto questo? O me, o vita. Risposta Che tu sei qui Che la vita esiste E l'identità Che il potente spettacolo continua E che tu puoi contribuire con un verso Che il potente spettacolo continua E che tu puoi contribuire con un verso Che il potente spettacolo continua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.